ciao ragazzi e bentornati sul mio canale vi starete domandando dove sto andando sto andando a visitare la capitale francese e vale a dire parigi se curiosi venite con me ci si gira aspetta 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 dimenticavo il viaggio è stato fatto tutto in macchina chiaramente siamo partiti da fano passando per milano con una breve ma intensa sosta a losanna fino alla capitale transalpina e con me in questo viaggio ci sono anche gabriele cristiano e maria grazia a 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 visitare parigi adesso sono appena uscito dal gioco star wars impressioni me l'aspettavo un po' migliore però l'ultimo tratto non è stato male dai ci stava un gioco hd 4k è bellissimo a 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 grazie per questa esperienza fantastica vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima ma il video continua perché abbiamo passato noi a Parigi tre giorni e l'ultimo giorno siamo andati a vedere l'ultima parte della città tra cui Campinisi o Champs-Elysée che dir si voglia il Louvre ma il Louvre non l'abbiamo visitato perché già l'avevo visto in passato c'ero già stato la vacanza si è conclusa nel migliore dei modi ciao ragazzi alla prossima paris paris qui paris 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti